amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati cambia ufficialmente la strategia atomica della russia dopo gli attacchi ucraini con missile attack sms americani in territorio russo in contemporanea alla decisione di biden di utilizzare i propri missili per attaccare la russia nel mar baltico vengono sabotati due cavi internet a fibra ottica sottomarina il primo che collega la lituania alla svezia il secondo che collega finlandia e germania c'è una notizia di pochi minuti fa la fonte è bloomberg che dice che l'ucraina ha lanciato anche missili storm shadow quindi inglesi contro la russia il premier starmer avrebbe quindi dato anche lui l'ok macrona segue biden e lo appoggi in questo pericoloso azzardo con la russia però senza ancora dare l'autorizzazione giorgia meloni su quanto sta avvenendo riesce a dire tutto e il contrario di tutto perché prima si unisce ai tre e dichiara con la russia ora è inutile dialogare e dice anche armi a kiev nel 2025 il giorno dopo afferma che l'italia non appoggia la decisione di biden e poi un'altra sempre fonte bloomberg putin ha in programma di visitare l'india per la prima volta dello scoppio del conflitto russo-ucraino questa è l'ulteriore dimostrazione del fallimento degli stati uniti di isolare la russia e otto razzi che colpiscono la base italiana unifil in libano crosetto esce allo scoperto con un perentorio inaccettabile bene questi sono i temi principali dell'appuntamento di oggi particolarmente intenso come avrete già tutti capito io presento subito il nostro illustre ospite del mercoledì umberto pascali come sempre in collegamento da washington salve ciao carlo generale generale l'altrettanto prestigioso ospite e di oggi questo mercoledì generale marco bertolini benvenuto grazie buonasera a tutti allora umberto e queste dichiarazioni allora quella che è uscita proprio pochi minuti fa al momento della nostra registrazione no l'ucraina fonte bloomberg ha lanciato anche missili inglesi storm shadow come hai delle delle riflessioni credo su questo sì beh chi ha intenzione a drammatizzare adesso probabilmente zeleschi e una piccola ricca del piccola insomma la cricca del complesso militare industriale negli stati uniti perché al di là delle notizie che sono esplose su questo la guerra che sta arrivando perché sono esplose mentre i capi dei dei g20 dei venti più importanti paesi del mondo erano a rio riuniti quindi in un ambiente controllato tra cui anche la meloni e hanno fatto dichiarazioni molto drammatiche no meloni se avete visto il video sembrava fuori di sé cioè a parte che diceva la russia è stata lei noi fortunatamente abbiamo l'antiere altrimenti i russi sarebbero già arrivati qui cose però avevano creato un'atmosfera lì a rio su questo punto adesso gli americani hanno dato l'ordine di bombardare e gli ucraini obbediscono in realtà ci sono alcune cose da sottolineare come sono state dottolineare primo la notizia di questa di questo permesso di colpire in profondità che poi in profondità gli atams se non sbaglio vanno a 190 miglia che non è profondità la russia c'è non so 6 7 fusi orari non è che che 200 chilometri 100 chilometri fanno grandi non arrivano a mosca quindi ma la notizia non è arrivata dalla casa bianca la casa bianca ha detto che la notizia è venuta dal new york times adesso la notizia che ci sono questi ulteriori attacchi in profondità vengue viene dall'ucraina vedi da kiev cioè da quel gruppo di che ne so di di agenti della cia o della mi6 che controllano questo punto l'informazione a chieve come lo controllano tanto tempo a in realtà i russi hanno subito messo in atto questa dottrina militare per cui se una potenza anche non nucleare mi colpisce ma è associata alleata aiutata da una potenza nucleare noi siamo in diretta contrapposizione con questa potenza cioè con la nato insomma e con e con gli stati uniti questa dottrina è passata già il mi sembra il 12 settembre scorso putin l'aveva annunciata in una in un'intervista volante a pietro san pietroburgo dicendo noi adesso questo è quello che faremo sappiamo che questi mic missili che devono colpirci in profondità non possono non possono operare senza che ci sia un controllo diretto ineluttabile da parte di americani o nato e non solo a livello di a livello di satelliti che gli ucraini i satelliti non ce l'hanno naturalmente e naturalmente ci sono delle diciamo dei dei passaggi segreti che sono il più segreto militare possibile poi generale si spiegherà anche meglio per cui non è che gli ucraini possono usare quel e non solo ma anche a terra ci devono stare specialisti militari non contractor non mercenari ma militari di fatto e dei uri statunitense perché quel tipo di segreti non possono essere passati a chiunque quindi questa è la situazione stanno cercando di portare al caos alla confusione esasperare gli animi è una mossa disperata perché quello quello che è successo per esempio ai g20 non ne possiamo parlare al g20 di degli ucraini hanno fatto un comunicato in cui o non contannavano la russia o non si faceva il comunicato cioè sono arrivati a fare un comunicato completamente diciamo così annacquato dal punto di vista del financial times per esempio che piange piange che tutto annacquato che non c'è una contanna è ancora peggio dell'ultimo g20 di deli dell'anno scorso perché la russia non viene condannata e praticamente veniamo condannati noi che siamo i buoni questa questa è un po la situazione ma la cosa più importante che vorrei il punto che vorrei fare di cosa hanno paura a parte che nell'europa si frantuma in quanto europa di brussel hanno paura come nel 2016 di un rapporto costruttivo di discussione e di pianificazione tra Washington di Trump e mosca di Putin e di Putin questo è la cosa fondamentale tant'è vero che se si riesce a fare questo poi altre cose minori le chiamo minori che sono maggiori tipo la guerra in medio oriente no a tipo quella che vogliono fare in ucraina e altre cose di questo tipo passano in secondo grado perché se c'è un'alleanza su cose cioè sempre per favorire la propria sovranità nazionale queste punti io favorisco la mia sovranità nazionale come americano e tu favorisci la tua sovranità nazionale come russo possiamo trovare un accordo non c'è il contrario certo se si riesce a fare quello il nemico chi è è l'oligarchia la grande cupola ligare sta facendo tutti questi trucchi perché si sente ferita a morte e sente e sente probabilmente il tempo scadere perché a gennaio il 20 di gennaio si insedia trump e generale vertolini l'ho vista fare più volte cenni da senso sì effettivamente c'è una volontà di fare pressione fare pressione sull'opinione pubblica fare pressione generando preoccupazioni nonché il la minaccia la minaccia di utilizzare l'autorizzazione a utilizzare gli atacam di utilizzare gli storm shadow ossia una cosa poco significativa però io direi che forse è più la rilevanza politica di questa di questa autorizzazione che non quella quella militare gli ucraini hanno già colpito in profondità in russia hanno colpito è un sistema importantissimo di early warning qualche tempo fa diciamo quindi incrinando anche la stessa capacità di deterrenza nucleare della 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 russia probabilmente hanno già riparato al danno ma è stato sicuramente un colpo importante hanno colpito dei depositi munizioni importanti non fondamentali magari per la condotta delle operazioni in ucraina ma sicuramente importanti comunque sia di elevato impatto anche mediatico ora con questo annuncio dell'autorizzazione dell'impiego di questi missili a lungo raggio che poi appunto lungo raggio come ha detto umberto pascali sono per modo di dire perché sono sull'ordine dei 300 chilometri al massimo mosca è a 500 chilometri dal confine con l'ucraina e quindi sono armi che sono sicuramente sono importanti sono pericolose per quel che riguarda i russi ma non possono essere non possono essere risolutive c'è però appunto a mio avviso la l'intenzione di premere nei confronti dell'opinione pubblica in generando delle preoccupazioni ma anche prima nei confronti del prossimo presidente negli stati uniti cioè metterlo di fronte a una situazione compromessa se non da un punto di vista militare perché per essere compromesso da un punto di vista militare ci dovrebbe essere una escalation significativa cosa che non si può naturalmente escludere però compromesso anche da un punto di vista proprio politico è chiaro che se di fronte a questi a questi messaggi ci fosse una reazione anche anche da parte da parte russa una reazione che tendesse a a favorire appunto una una escalation trump nel momento in cui si insediasse sarebbe sicuramente in difficoltà trump ha annunciato più volte di voler metter fine alla guerra in ucraina trump non ha la bacchetta magica sicuramente non lo può fare in 24 ore così come aveva annunciato sicuramente dovrà tener conto del fatto che le sue proposte se sono quelle che sono passate fino ad adesso troveranno resistenza da parte della russia perché il fatto di rimandare a tempi migliori l'entrata dell'ucraina nella nato non è sicuramente ritenuta sufficientemente diciamo è sufficiente da parte da parte da parte di di mosca mosca non vuole tra l'ucraina nella nato putin non vuole passare al suo successore un problema che potrebbe scoppiare fra cinque o dieci anni quindi non è sicuramente in grado di risolvere dall'oggi al domani e però è in grado e sicuramente intenzionato a intavolare una un negoziato a intavolare una una trattativa e questo è ritenuto estremamente pericoloso da parte di quelli che hanno pervicacemente voluto questa guerra e se c'è una cosa una cosa che è significativa adesso a parte la credibilità o meno di questa di questa autorizzazione anche il fatto di non aver dimentito il fatto che questa autorizzazione c'è stato è significativo se c'è una cosa importante che secondo me dobbiamo cogliere e che in un certo senso è stata gettata la maschera cioè c'è un partito che vuole la guerra c'è un partito che vuole la guerra c'è un partito che non vuole la ricomposizione di rapporti diciamo di buon vicinato con con la russia e questo va sicuramente a svantaggio al capito della dell'europa che è un po il 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 terzo incomodo diciamo sul quale si scaricheranno si scaricheranno i problemi di carattere economico ma in in previsione anche di carattere di carattere militare quanto alle prese di posizione degli altri paesi sì c'è da dire che per alcuni generale lo vediamo fra poco per così ci alternavo volevo solo la posizione degli altri paesi europei ovviamente che come già preannunciato contano veramente ovviamente poco no ecco volevo solo una riflessione proprio veloce telegrafica sulla ecco la trattativa che potrebbe comportare uno degli aspetti e la l'ucraina nella nato non prima di vent'anni beh ma questo vuol dire mai secondo me perché non riesco a immaginare una nato che esista fra vent'anni ancora allora intanto ecco intanto c'è da dire la nato fra vent'anni cosa sarà noi abbiamo già visto che c'è anche anche erdogan che con la sua recente dichiarazione sul diritto dell'ucraina della della russia a difendersi attenzione la russia fino a prova contraria è per la narrativa corrente e direi obbligatoria l'aggressore che un un presidente di un paese nato importante con la turchia eh sottolinei il diritto dell'aggressore a difendersi è una cosa abbastanza significativa quindi chissà che cosa sarà la nato fra vent'anni però resta il fatto che i precedenti che ci sono eh e che sono stati in un certo senso confessati da Angela Merkel quando ha detto che anche gli accordi di Minsk erano finalizzati essenzialmente a prendere tempo e a dare all'ucraina la possibilità di prepararsi alla guerra a questa guerra eh chiaramente depongono male a favore di un impegno di così lunga eh portata eh ed è quello che intendevo prima che Putin voglia lasciare al suo successore o ai suoi successori la patata bollente di avere a 500 chilometri da Mosca comunque sia un paese inserito in un'alleanza che fino a prova contraria si è dimostrata estremamente aggressiva nei confronti della russia io credo che non sia accettabile quindi è quello quello dell'ucraina nella nato secondo me è proprio l'elemento centrale quasi più eh che non il controllo dei territori che sono stati occupati dalla dalla russia questo è sicuramente un elemento che non verrà eh accettato almeno ad ora l'informazione libera e indipendente non è mai stata così importante al vaso di pandora ci impegniamo ogni giorno per fornirti analisi approfondite rubriche esclusive e interviste senza filtri lontane da ogni forma di propaganda sostenere un'informazione di qualità è fondamentale per mantenere viva una voce indipendente con il tuo abbonamento ci aiuti a continuare questa missione e a migliorare il servizio che ti offriamo abbonati oggi su ivdp.it e unisciti alla nostra famiglia di ascoltatori consapevoli insieme possiamo promuovere un'informazione di qualità Umberto senti ecco tutti e due avete analizzato prego prego volevo aggiungere un paio di cose a sottolineare quella che avete generato la prima una delle prime dichiarazioni che è venuta dagli stati uniti dagli ambienti trumpiani è stata quella del figlio di trump mi ha colpito perché è stata pressoché immediata noi sappiamo che donald trump jr è quello che ha detto al padre prendi come vicepresidente vance non prendere rubbio ha fatto benissimo in più è quello che nel famoso intorno al 13 venerdì 13 settembre come nei film dell'orrore quando si era scatenata la possibilità della guerra atomica no era lui che aveva scritto insieme a kennedy il figlio di trump insieme al figlio di robert kennedy è uno scritto un editoriale sul politico dicendo basta con questa guerra voi volete provocare la terza guerra mondiale atomica noi siamo contrari adesso immediatamente il ragazzo chiamiamolo così ha fatto un twitter anzi un un ex sul suo amico mask dicendo il complesso militare industriale si vuole assicurare di scatenare una terza guerra mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite umane devono incassare quei miliardi di dollari e al diavolo con la vita ironia pesante imbecilli tre punti esclamativi questo è il suo seguito poi da vari altri su questo su questo tono quindi adesso vorrebbero dividere ancora una volta impossibilità se tram anche per interpretare persona parla con putin allora questo è deve essere impiccide deve essere messo sotto accusa come riusciranno a fare l'altra volta questa volta non ci sarà il generale flin cioè sarà un generale che sarà cacciato così brutalmente dopo le prime settimane da parte del deep state stanno reagendo molto molto fortemente da parte di trama potrebbe accadere umberto adesso da qui al 20 gennaio perché credo con queste premesse e si giocano tutte le chance nei prossimi in questi prossimi due mesi mi sembra dalla posso desumere no dalla vostra analisi della tua in questo momento beh innanzitutto i russi attraverso la tar la tasse attraverso il portavoce pescovo di putin stanno suggerendo questo è il titolo del della loro della dichiarazione di pescovo putin e trump hanno modi per entrare in contatto tra di loro sia modi che tutti conoscono sia altri modi praticamente secondo me sta dicendo che mi prendo la responsabilità dell'errore sicuro che già ci sono contatti e naturalmente possibile scusi è possibile generale ci siano già contatti si vabbè penso proprio di sì non esiste più quella linea rossa istituzionalizzata che c'era ai tempi della guerra fredda e questo è un problema però sicuramente sicuramente con volevo visto che ha detto una cosa importante volevo solo sentire ecco l'ha detto chiaramente probabilmente sì prego umberto dopo ritorniamo da lei generale adesso tu mi chiedevi che che succederà beh ho appena letto un lungo saggio del der spiegel tedesco che mi ha mandato il mio carissimo amico in traduzione italiana e in cui si spiega che scholtz è finito nel senso che scholtz tra l'altro che quello che ha fatto la telefonata a putin lui ha fatto la telefonata putin queste sono cose importanti che fanno capire dov'è la situazione in europa però adesso c'è merce sarebbe il frederick merce che lo rimpiazza però merce come spiega lo spiegel velenosamente si trova in una situazione in cui non c'è via d'uscita perché deve se vuole fare la guerra come dice lui dobbiamo difendere l'ucraina sciolze e debole questo quello che dice merce allora deve deve avere un bilancio e lì si scatenano 200 miliardi 300 miliardi devono essere in un'economia tedesca che sta cascando a pezzi sia perché soprattutto per l'energia che viene a mancare perché dalla russia cosa denunciata per esempio dal generale vannacci recentemente no in una sua in un suo scontro molto molto appassionante quasi divertente con caia callas la minestra della dell'economia dell'europa in cui ha detto cosa farai tu per rimpiazzare questa mancanza di energia dovuta al fatto che mi siete messi contro la russia cosa fare cioè una posizione diciamo così pro russa che non sarebbe poi quella della della meloni comunque adesso c'è in germania questa situazione o si fanno più tasse e allora la gente si ribellerà perché già non ce la fa più con l'economia che casca a pezzi con la con le ditte che chiudono oppure indebitamento indebitamento sarebbe andare dalle grandi banche cioè lo schema classico le grandi banche grandi parassiti grandi succhia sangue che vogliono vogliono che i paesi si indebitano come meglio con la guerra con la guerra si indebitano e non devono pagare non possono scappare e quindi loro si indebitano e noi che stiamo crollando queste grandi banche per esempio guardiamo black rock quello che è successo con la loro avventura in ucraina per conquistare le terre nere le terre fertili eccetera eccetera facciamo un piccolo investimento ammazziamo un sacco di gente e poi tutto quello sarà nostro non è più così quindi rischiano veramente di crollare quindi si trovano in questa situazione molto che non che non abbia d'uscita perché la gente si ribellerebbe a un ulteriore giro di vite e dall'altra parte devono farla finita con tutte le fantasie ecologiste del verde no ritorno all'energia nucleare adesso sul sul tavolo c'è questo ritorno all'energia nucleare ma come fanno hanno chiuso tutto in questa pazzia che dobbiamo essere tutti verdi dobbiamo fare le eoliche e adesso devono tornare a questo in più cambiare praticamente l'ideologia che hanno cercato di indurre nella loro popolazione questo è quello che spetta noi all'europa io vedo per esempio nella in meloni poi concludo di questi salti a destra a sinistra no in cui non riesce a capire bene quello che deve fare la situazione tipica in cui governi che si sono in un certo senso venduti o si sono adagiati completamente su quelli che pensavano l'ordine dei potenti padroni quando vedono che il padrone sta cambiando o che non c'è più padrone che devono mettersi in proprio quindi quello che succederà per noi importanti per per quelli che ci ascoltano per gli italiani è capire adesso noi abbiamo un campo libero essere liberi fa paura perché essere liberi implica responsabilità che posso fare io quando ti liberi delle catene no come uno schiavo dici e adesso cosa faccio nella mia vita perché anche la catena è una forma di sicurezza voglio dire no generale bertolini la germania cosa in un piccolo cieco beh la germania sicuramente il grande malato d'europa sono su questo non c'è ombra di dubbio la germania è stata è stata un po' relativizzata anche dal ruolo crescente che sta avendo la la polonia ma poi è stata attaccata da un punto di vista energetico con 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 il taglio sostanzialmente dei rifornimenti di gas dalla 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 russia ed è in crisi è in crisi anche questa crisi si sta riflettendo anche sotto il profilo politico appunto sono state delle elezioni che hanno confermato lo spostamento dell'opinione pubblica su posizioni critica nei confronti del governo federale alle alle elezioni nei lander della turinja a sassonia e del brandeburgo appunto con riferimento anche alla postura della germania nei confronti della guerra in 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 ucraina e questo pare paradossale la stessa cosa è successa in francia anche macron in un certo senso un presidente un po dimezzato perché diciamo ha perso ha perso le elezioni ha perso quella quella maggioranza diciamo larghissima della quale godeva eppure appunto prendono prendono delle posizioni pare molto molto dure nei confronti della guerra come voler fare appunto i soldati giapponesi che dopo 30 anni continuavano a combattere nella giungla eh contro 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 chissà chi a questo punto e questo fa porre qualche qualche domanda ma per quale motivo eh questi partiti eh questi questi leader che sono in un certo senso leader dimezzati se non altro in termini di supporto da parte dei rispettivi elettorati sono così sembrano così almeno parole eh duri nel voler mantenere una pressione nei confronti della Russia e qui c'è da 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 le risposte possono essere tanti o si tratta di un atteggiamento punitivo nei confronti delle proprie eh opinioni pubbliche dei propri elettorati ma sarebbe abbastanza piccino oppure scommettono sul fatto che in qualche maniera Trump venga azzoppato venga azzoppato o dal dello stato profondo dal deep state che è vero che lui sta cambiando parecchi eh stakeholders parecchi responsabili diciamo del della prossima amministrazione alcuni addirittura sembrano rivoluzionari però è anche vero che ci sono in questi decenni in questi decenni ci sono eh 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 un gran numero di di personaggi che sono stati messi nelle posizioni chiavi che sono in grado di di eh influenzare anche le decisioni politiche che verranno prese oppure sono consenso di qualcosa che dovrà succedere e questa è la cosa più preoccupante eh sanno che dovrà succedere qualcosa e allora è inutile fare le distingo o aspettarsi qualcosa da dagli Stati Uniti speriamo che non sia così speriamo che sia semplice opportunismo che sia eh la volontà anche di non perdere completamente la faccia perché dopo che per tre anni hanno hanno predicato eh la necessità di eh sostenere whatever it takes eh il il l'Ucraina non è che possono fare marcia indietro però sicuramente eh è abbastanza è abbastanza eh curioso che proprio i leader più deboli anche Starmer l'inglese sono i più i più duri nel voler nel voler eh eh continuare almeno almeno a parole. L'Italia da questo punto di vista mi sembra sì è vero eh le dichiarazioni della della Meloni però mi sembra che abbia scelto una linea un po' più di basso profilo insomma un po' più un po' più più prudente eh anche perché effettivamente noi non siamo da un punto di vista eh da un punto di vista eh eh militare da un punto di vista economico a livello magari di eh di altri l'Italia sa di non poter rischiare più di tanto anche se sa a sua volta di avere la catena corta come gli altri. Sì e Umberto il generale Bertolini ha evocato ha ipotizzato due scenari diciamo forti no? Dice le cancellerie europee sono in questa posizione perché si barcamenano perché pensano magari che Trump possa essere azzoppato oppure mantengono una una posizione di questo tipo perché sanno che comunque qualcosa sta per avvenire. Il generale appunto diceva questa mi auguro che non sia l'ipotesi eh più realistica. Prego. Ma ehm diciamo dal punto di vista di Trump o diciamo della coalizione che ha portato Trump questa volta alla Casa Bianca o perlomeno all'uscio della Casa Bianca per adesso. Noi sappiamo che adesso tra i personaggi più importanti di questa coalizione ci sono democratici. Cioè questa è una una coalizione eh nazionale eh c'è c'è Kennedy e c'è Tulsi Gabbara c'è Musk che tutti quanti attaccano senza capire bene che cosa è Musk. Cioè io dico solo una cosa su Musk. Può un individuo semplicemente perché è ricco ma ricco ci è diventato ultimamente negli ultimi cinque minuti. No? Avere il controllo sulla parte più importante e più avveniristica della difesa americana senza che abbia una posizione anche a un livello diverso dal dal miliardario così che va in televisione. No. Eh qui c'è già una lotta interna nello Stato e e perciò Trump non sono riusciti eh dico brutalmente a ucciderlo perché c'è qualcuno che ha la capacità di difendere. Non è che quelli hanno diminuito la loro intenzione di farlo fuori ma c'è una una controspinta. Quindi già c'è all'interno dello Stato c'è lo Stato profondo e poi non so come chiamare lo Stato profondissimo eh che ha una grossa capacità. Noi ricordiamoci che fatti strani che nella così nella narrazione eh popolare che noi abbiamo assorbito non 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 riportano. E cioè quanto Trump vinse le elezioni nel 2016 lui era spiato da tutte le agenzie. Come lo venne però mentre era stato eletto ma non ancora inaugurato si mosse un giorno improvvisamente dal grattacielo dalla torre dove Trump a New York a un altro posto muovendo tutto il quartier generale cambiando tutto perché era stato visitato dal capo del ehm dei dei servizi segreti eh come si chiamano elettronici non so come si dice dei segnali penso che si dica in italiano no? Eh National Security Agency che gli aveva detto guarda Trump tu sei spiato dall'FBI, dalla CIA eccetera muoviti subito. Quindi già lì c'era dopodiché quelli della CIA e dell'FBI andarono al presidente che era ancora eh Obama dicendo devi licenziare immediatamente questo generale Roger mi sembra si chiamava perché lui ha rivelato i segreti a Trump no? Quindi già c'era un un qualcosa di visibile all'interno. Questa è la grande lotta. La grande guerra che deve fare Trump non è con la Russia. Non è neanche con l'Europa dice vabbè gli americani vogliono rubare le ditte all'Europa per portarle in America ma non gli interessa. Le cose sono molto più fondamentali per l'America. America sta crollando sta crollando perché è tutta tutto fumo e niente arrosto e tutta finanza e niente economia reale. Questo è il punto fondamentale. E quindi deve in poco tempo nel 2016 era difficile. Adesso è un'impresa mastodontica. Deve riuscire a ricrearsi un tessuto industriale. Deve riuscire a ricreare una popolazione che è capace di lavorare a quel tessuto industriale. Quindi scuole. Ha necessità di cambiare radicalmente anche al di là di motivi ideologici personali. Di cambiare l'ideologia che è stata imposta. Quest'ideologia woke. Quest'ideologia del tragendere. Quest'ideologia della decadenza della società. Dell'atomizzazione. Quella di Klaus Schwab che è l'arma migliore per distruggere una società. O la denatalità. Impedire la popolazione di crescere. Distruggere demograficamente un paese. Questi sono i problemi grossi. In questo gente come Orban, gente come Fiso e in un certo senso lato gente come Erdogan della Turchia. Sono alleati o perlomeno sono persone con cui si può discutere. Ma anche Putin. Perché a Putin che cosa interessa. Il mio sogno nella vita è distruggere l'America perché la odio o distruggere l'Europa. No. E anche lì ricreare una Russia vitale. E quindi sono concetti economici. Sono concetti anche spirituali in un certo senso. Cioè la direzione del pensiero. La gente deve ritornare alla normalità umana. In questo c'è alleanza. In questo c'è alleanza con penso la grandissima maggioranza degli italiani, dei tedeschi, dei francesi. Una volta usciti dai fumi del lavaggio del cervello che li hanno fatto, la gente si troverà spaisata ma libera di andare in questa direzione. E questo è un'ultima cosa che voglio notare. Trump e il Medio Oriente. Trump e Netanyahu. Trump è amico di Netanyahu. Netanyahu gli ha dato i soldi quindi adesso lui deve fare quello di Netanyahu. Deve distruggere i palestinesi e deve continuare il massacro eccetera. Ho qui un'analisi molto interessante perché è di Larry Johnson che è un ex della comunità di intelligence americana ma soprattutto è uno dei portavoci di quei militari o intelligence sono uno stato profondissimo diciamo. Ogni tanto viene fuori con alcune informazioni. Allora dice vuole impedire una guerra con l'Iran che è il contrario di tutto quello che pensano e riporta una dichiarazione, un video di Trump che parla con il capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Reproduzione della Prestiglia, cioè il cattivo, quello che sarebbe venduto eccetera e questo gli dice guarda che non siamo noi che non vogliamo negoziare, è lui. E Trump dice sì lo so è lui, lui sarebbe Netanyahu. Quindi Larry Johnson dice non è che furbescamente non è che noi ci dobbiamo aspettare poi che Trump che dice sempre che lui farà cose che nessuno si aspetta invece dirà adesso in pubblico apertamente è Netanyahu il problema e lì dobbiamo influire una volta che ha vinto. Questo per dare un'idea di quello che potrebbe avvenire naturalmente adesso che gli fanno cercano di mettere contro per esempio i senatori repubblicani che già cominciano a uscire fuori, non vogliamo Kennedy, non vogliamo Matt Gaetz come capo, ministro della giustizia. Normalmente, cioè 2016, lui sarebbe tirato un po' indietro e avete detto vabbè ma ragioniamo non è proprio così. Adesso stanno partendo all'attacco come dimostra il figlio di Trump che dice voi siete imbecilli, cioè non gli dice voi sbagliate, voi siete imbecilli e volete la terza guerra mondiale, io e mio padre ve lo impediremo. Questo è l'aria che tira e quindi tutti questi nuovi membri del governo, anche quelli che sembrano super sionisti eccetera, questi ubbidiscono esattamente a questo piano che esiste e dovranno risolvere la questione all'interno. Il primo periodo di Trump, e cercheranno di impedire in tutti i modi, è ripulire completamente quello che voleva fare nel 2006 che ha tentato il Pentagono, il complesso militare industriale, il Dipartimento di Stato, la CIA, l'FBI e tutte le altre varie agenzie in maniera fortissima, in maniera sorprendente. Fatto questo ci sarà una liberazione, nel senso che si vedrà che come è successo per ex, cioè per Twitter quando è stata presa la masca, masca ha licenziato l'80% delle persone e adesso è stato messo a fare la stessa cosa per il governo. Ha fatto un'analisi della situazione in America, poi in Medio Oriente, poi è ritornato nella parte finale in America. Generale Bertolini, le cedo la parola per focalizzarsi nel punto che preferisce di tutto quello che ha detto Umberto. Ma sì, concordo ovviamente con quello che ha detto, con molta maggior competenza e conoscenza del problema di quello che potrei mettere io. Sicuramente ha preso lezioni, ha fatto le cosiddette lesson learned rispetto al suo precedente mandato, quando è stato effettivamente azzoppato dall'amministrazione. Il fatto che abbia scelto personalità così forti e che tenga duro nel mantenere il credito che gli ha assicurato, anche di fronte alle resistenze che possono arrivare dal suo stesso partito in Senato, che è il Senato che dovrà approvare queste nomine, la dice lunga sul fatto che abbia le idee chiare. Lui sa che senza questa intelaiatura di collaboratori forti, con le sue stesse idee, con la sua stessa determinazione, non arriverà da nessuna parte. Già a suo tempo, voglio ricordare, lui aveva deciso di ritirare le forze americane dalla Siria. In effetti per una quindicina di giorni sulla sponda orientale delle Eufrate, gli americani si erano ritirati, poi sono rientrati, come mai sono rientrati? Perché è cambiato qualcosa, è successo qualche incidente? No, evidentemente le resistenze che c'erano nell'amministrazione, in taluni settori dell'apparato contro una cosa del genere, l'hanno avuta vinta nei suoi confronti. Ecco, io credo che probabilmente adesso si sta attrezzando per resistere a situazioni di questo genere. Per quel che riguarda quello che è stato detto nei confronti del Medio Oriente, in effetti penso anch'io, spero soprattutto, ma penso anche che lui cercherà di risolvere anche queste tensioni nei confronti dell'Iran. L'Iran rappresenta, e questo forse ce lo potrebbe dire meglio Umberto, che vive all'interno della società americana. Io credo che l'opinione pubblica americana abbia interiorizzato un'avversione nei confronti dell'Iran, dovuta alle frustrazioni che ha avuto nel tempo. La prima frustrazione è stato il fatto che il Comeini, che in sostanza è stato insediato al posto dello Shah, proprio per l'iniziativa degli Stati Uniti, poi ha confermato una linea di indipendenza dagli Stati Uniti che non hanno apprezzato. A quel punto si è trattato di eliminare quell'enorme arsenale bellico occidentale che lo Shah ha accumulato e in questo una lunga guerra con l'Iraq, supportato dagli Stati Uniti prima che Saddam entrasse in conflitto con gli Stati Uniti, è servita all'uomo. Altre frustrazioni sono dovute a quello che poi è seguito, il famoso sequestro dei diplomatici, il tentativo non riuscito di liberarli. Quindi sicuramente da parte sua c'è un atteggiamento, almeno da un punto di vista del suo sentire profondo di fastidio nei confronti dell'Iran. Però c'è anche da dire che è un uomo estremamente realista e si rende conto che l'Iran non è una piccola realtà, non è un piccolo paese col quale puoi fare la voce grossa. L'Iran è un paese importante da un punto di vista del territorio, da un punto di vista della popolazione, da un punto di vista delle risorse e adesso anche da un punto di vista delle alleanze. È sicuramente un alleato della Russia, è sicuramente inserito nel contesto dei BRICS, come sappiamo ormai è un paese BRICS a tutti gli effetti, non è che lo puoi semplicemente trattare come una piccola realtà della quale ci si può sbarazzare facilmente. Quindi io ritengo che probabilmente la soluzione del problema medio orientale passa attraverso un cambio al vertice in Israele. Israele effettivamente il problema che potrebbe risolvere il tutto potrebbe essere un cambio, la sostituzione di Netanyahu con qualcun altro. Però effettivamente il problema medio orientale si intreccia con quello dell'Ucraina, ma è molto più complesso, anche per quello che dicevo prima in merito al sentimento generale che c'è nei confronti. Certo il trasporto a favore di Israele dovuto alla comunità ebraica, ai Christians for Israel, che sono realtà molto importanti, anche un po' all'avversione nei confronti dell'Iran. Però in queste elezioni Trump è stato decisamente supportato anche dalla comunità islamica americana, quindi io credo che lui dovrà fare qualcosa per accontentarla, per dimostrare, non dico gratitudine, ma il fatto di confermare che le sue non erano parole, il suo impegno a abbassare i toni dello scontro erano sinceri. Umberto, ci stiamo avviando alla conclusione. Cosa farà secondo te Trump una volta insediato? Le prime cose che farà, come si dice, i primissimi mesi, di solito si dice i primi 100 giorni sono molto importanti, sono quelli che danno l'impronta anche da un punto di vista proprio di percezione anche della pubblica opinione. Cosa farà Trump ai primissimi tempi? Sì, secondo me farà delle dichiarazioni forti, grandi per quanto riguarda la politica estera, dirà tante cose, ma il suo focus, la sua attenzione totale, praticamente 99,9% sarà su questioni interne. La prima cosa che dovrà fare interno… Quindi l'Ucraina e quindi Zelensky, arrivederci, arrivederci, addio. Da qui alle elezioni Zelensky già probabilmente sarà sparito in un modo o nell'altro. Adesso quel piccolo gruppo di persone che vogliono guadagnare ancora gli ultimi soldi, perché l'amministrazione Biden, prima di andare via con Blinken, ha detto che abbiamo ancora 7 miliardi di quello che avevamo messo insieme per i poveri ucraini. Adesso glielo daremo nell'ultimo periodo, quindi devo trovare un modo per darglieli. Tra l'altro questi ATAMs, che non hanno fatto niente in termini reali come danno, però una volta partiti, una volta distrutti, questi erano ATAMs che stavano nominalmente nell'arsenale americano, quindi dovranno essere sostituiti da altri ATAMs. Quindi il complesso militare industriale sta adesso costruendo, o più che costruendo, sta vendendo. Quindi dovranno fare in modo che questi 7 miliardi di dollari rimasti vadano, le ultime cose vadano ancora al complesso militare industriale. Anche se la situazione ucraina verrà drammatizzata continuamente con i nordcoreani, in realtà penso che andrà via in un certo senso da sé. I danni che provvederà all'interno dell'Ucraina sono tremendi, quello che hanno fatto soffrire agli ucraini è incredibile, non i russi che hanno fatto di tutto per non farlo. Però il focus di Trump sarà sulla situazione interna, deve liberare, deve pulire le stalle e deve farlo in modo aperto, in modo che la gente non perda di nuovo fiducia. L'altra volta la gente dice abbiamo eletto Trump perché deve drenare la palude, deve prosciugare la palude. Trump dice adesso prosciuga la palude e deve far uscire la verità su chi ha ammazzato Kennedy, cioè la CIA che lo sanno pure i bambini. Sì, lo faccio, lo faccio e poi è stato sopraffatto letteralmente, cioè è un miracolo che ha resistito per quattro anni perché sarebbe dovuto andare via. Però dovrà ripulire la CIA, dovrà ripulire l'FBI, dovrà ripulire il Pentagono. Non il Pentagono nel senso i vari a livello colonnelli eccetera. C'è molta gente che capisce benissimo che quei generali a quattro stelle che sono generali politici devono andarsene, come il 20% della dirigenza FBI o CIA se ne devono andare. Quello che lavora l'FBI in Florida, in Texas, ha ben poco a che vedere col capetto dell'FBI che se la fa con i vari membri del complesso militare industriale eccetera per fare il Deep State, per fare lo Stato profondo. Questi se ne vogliono liberare, quindi questo sarà il focus. In più due grosse lobby, la Big Farm e Big Food, il cibo. Tutti conoscono Monsanto, Cargill eccetera, quelli che controllano il cibo, quelli che ci avvelenano. Questi dovranno essere messi in una condizione di non nuocere. Questi sono potentati di una forza paurosa, di una capacità paurosa. Quello che abbiamo visto negli ultimi quattro anni, negli ultimi otto anni, non è stata tanto una guerra tra l'America e i suoi nemici esterni. L'America ha i suoi nemici interni e adesso il nemico è stato un po' fiaccato, ma adesso ci deve essere la fonda. Adesso ci saranno cose, se le cose procederanno come si pensa, ci saranno degli avvenimenti. Sì, secondo te, Umberto, procederà così. Se le cose come si pensa, dici che inizierà a farlo, potrai iniziare a farlo, insomma. Sì, già adesso lui praticamente l'ha fatto, già ha mandato per esempio il suo nuovo cabinet, il suo nuovo governo Ombra, già oggi mi sembra che sta al Senato e al Congresso a parlare con i repubblicani, a dire, senti, non fate come al solito che vi vendete per soldi, ci dovete sostenere, perché ci stanno quelli come l'ex vicepresidente Pence, la Serpe, il scrittore, che sta dicendo non dovete accettare Kennedy. E sai perché, che cosa ha studiato lui, perché lui è tutto cristiano fondamentalista? Perché Kennedy è a favore dell'aborto. Tu pensi. Quindi, allora vi dovete mettere con Kamala e con Biden contro Kennedy, cioè non dovete… e cerca di prenderli da varie parti, ma queste cose che otto anni fa riuscirono in un certo senso, adesso non sembra proprio riuscire. E questo sarà importante vedere anche le conseguenze per l'Italia, perché ci sono, concludo, ci sono fili. Quando in Italia si prendono certe decisioni, non è semplicemente perché sono cattivi e disgraziati, forse alcuni sì, ma perché arrivano gli ordini. Inevitabilmente, certo. Quando arrivano altri ordini, che succede? Come Mattarella che dice, ah beh, ma adesso noi difendiamo la sovranità nazionale, adesso che ci entriamo, non prima, no? Non sarà facile. Non sarà facile. E tutte cose che vedremo con calma le prossime settimane. Generale Bertolini, le lascio due minuti e mezzo, perché siamo entro, vorremmo sempre come sempre rimanere entro l'ora, un'analisi conclusiva sul… Umberto sintetizzo, ecco, usando la sua frase, Biden… sì, Trump, possiamo perdere, Biden ormai è già il passato, è un presente ancora pericoloso il colpo di coda, ma ecco, Trump dice pulirà le stalle, quello che vogliono in America, probabilmente gli americani, che lui pulisca le stalle. Beh, non c'è un braviubio che il mandato che ha avuto è questo. Guardi, quando uno subentra in un alto incarico dell'amministrazione, non soltanto un incarico importante come quello di Trump, normalmente è un po' come il macchinista di un treno, ha la possibilità di accelerare o rallentare, ma non ha quello di cambiare direzione, nelle direzioni, la direzione è data dalle rotaglie. Trump invece ha proposto qualcosa di diverso, lui ha proprio proposto di cambiare direzione in politica estera, in politica interna, nei confronti degli immigrati, nei confronti… quindi effettivamente quello che lui si sta proponendo di fare non è… ed è questo un processo che non potrà risolvere in quattro anni di mandato, cioè il suo è un progetto evidentemente di più ampio respiro, sarà il progetto che dovrà essere preso dal suo successore, che quindi dovrà preparare a continuare nella stessa direzione e per far questo, ripeto, ha bisogno di impostare il lavoro adesso in maniera radicale, altrimenti verrà ricondotto sulle stesse rotaie e non ci sarà niente da fare, potrà soltanto frenare o accelerare, che è sicuramente importante, è una funzione importante, ma non è quello che un personaggio come lui credo si sia… si voglia proporre. Proporre, certo, perché ha sfidato anche i tentativi di omicidio, quindi evidentemente si sente investito di un compito veramente molto, molto, molto grande e di alto profilo. E questo lo seguiremo, valuteremo, vedremo sempre gli sviluppi le prossime settimane e i prossimi mesi, questo sarà per noi un periodo estremamente importante, per noi che facciamo informazione di contrapeso all'informazione ufficiale che fa il mainstream, diciamo che fa, come di solito dico, un altro mestiere. Siamo in chiusura, io ringrazio veramente moltissimo, come sempre per le preziosi analisi e informazione generale Marco Bertolini, grazie. Grazie, grazie a lei dell'invito e grazie a tutti per l'ascolto. E a presto naturalmente e grazie come sempre con me ogni mercoledì in collegamento da Washington, Umberto Pascali, grazie Umberto. Grazie a te Carlo, è stato un piacere ancora una volta incontrarmi con il generale Bertolini. Come sempre, assolutamente, grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.